Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Fortnite a modo mio Ho visto che non vi è dispiaciuto quindi voglio provare a portare altri episodi Non vi preoccupate, domani se ho la possibilità Cercherò di far uscire sia Brawl Stars che sia The Battle Cats Ci provo ragazzi, non so se ce la faccio, potrebbe uscire anche soltanto Brawl Stars Vediamo con i tempi che ho a disposizione 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale dei suoi nuovi Lascia il hashtag appunto Fortnite qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E direi di andare avanti con le nostre nuove partite Vai andiamo a farci un po' di partitozze e vediamo che cosa combiniamo Sono sempre con la mia bellissima skin da insettino e dovremmo andare a fare i bucetti Ok, allora vediamo dove scendere nella nostra prima battaglia A me piace troppo l'Aki Lake, anche se bomber base da questa distanza sarebbe un po' più comodo Allora sinceramente ci provo, vai Volano tutti a sinistra e io cerco di andare qui a destra Anche se questo è uno spazio un po' troppo grosso C'ho un po' di paura a entrarci Allora vediamo un po', abbiamo trovato una bella cassa Già con una bella pozzetta di quelle lì grosse grosse Allora entra ad altra gente che adesso morirà male No, spero di non morirci, infatti mi allontano di colpo Perché c'ho un po' di pifa sinceramente Te lascio la cassa, mi dispiace Anche perché siamo agli inizi e non ho preso ancora la pozza gigante con lo scudo Allora, delle bombe di quelle che assorbono, va bene Ok, una bella cassa da aprire che non mi si apre perché te pare che a me le cose funzionano bene Ma no, ma non sia mai Ok, allora funziona così, andiamo a prendere questo Ci carichiamo e ci mettiamo subito scudino, almeno siamo più sicuri Allora, dovrei aver alzato un po' i suoni del gioco per far sentire anche un po' di più le sparatorie simili Non so se vi piace, fatemelo sapere qua sotto nei commenti Allora, dai, diamo, entriamo qua dentro Vediamo un po' cosa c'è Oh, questa è la nuova arma che hanno aggiunto Il P90 Ragazzi abbiamo il P90 Che bello, che bello Allora, intanto mi prendo altre di queste che non ci servono a niente Ok Allora, un'altra bella scatolina per noi Stiamo in una zona molto buona, mi piace Mi piace? Stiamo prendendo bella robina Allora, questo è scrauso, però ci freghiamo i proiettili Allora, oh, medikit, ciao ne proprio Grazie, molto gentili Allora, abbiamo un fucile a pompa Sinceramente non mi interessa Adesso abbiamo questo bel P90 da testare Mamma mia, cominciamo subito P90 epico Cioè, proprio grande, grande così Ok, ci freghiamo i colpi di tutto quello che troviamo Cassa dorata Z, cassa zombie Che ci dà altre curette E ci mettiamo anche lo scudo Non possiamo con quello, giustamente, mi dimentico sempre Allora, vai così P90 per noi E vediamo anche come spara e quanti danni fa sto P90 Se sta fregando i colpi da tutte le armi, insomma Ok, l'area è questa E noi ci siamo arrivati Vicino, vicino Leviamo quell'arma Ok, siamo rimasti solo con P90 Ma non pratica E le bombe leggendarie che rimbalzano da tutti i pizzi Ok, un'altra cassa zombie E beh, non è male per niente Il problema è che io adesso ho troppa roba di quella comoda Sinceramente la bomba questa qui la vorrei levare Anche se è comoda ad aria Ma è pur sempre un rischio Guarda, un'altra non l'ho trovata Ok, mi porto gli scudi che possono essere molto più comodi Mamma mia quanta roba è uscita Allora, sinceramente tra queste due a me piace più lei come arma Intanto freghiamo tutti i proiettili che utilizzerà il P90 Ok, vai 726 colpi sul P90 Ok Stiamo messi abbastanza bene E direi che visto che si sta cominciando a chiudere l'area Che dobbiamo cominciare a scendere Allora, proiettili per noi Ci siamo Siamo messi bene Allora, questa buona Prendiamo i colpi per la nostra arma secondaria Ok Vediamo un po' che cosa combinare Oppela, altri colpi per noi? Vediamo un po' Perfetto Stiamo 8,96 9,86 Quanti colpi lasciano la gente? È abbastanza nabba comunque, ultimamente Non prende i colpi dalle armi comuni che stanno per terra Che è una cosa importantissima specialmente alla fine Siamo rimasti in 12 Io ancora non sono morto Va bene Allora, questa è quella lì Mi avete detto che se la prendo di fila Non mi funziona Quindi me la prendo Aiuto Oh P90 per me P90 per me Vai Ti ucciderò col P90 Mamma mia l'ho ucciso Un po' a pelo Un po' a rischio Però l'abbiamo ucciso Ok, il P90 è bello però fa pochi danni Ma tira tanti colpi Quindi c'è la probabilità comunque di stopparlo Vediamo un po' Se riusciamo a recuperare un po' Allora, lo scudo l'abbiamo preso La pozione l'abbiamo presa Abbiamo un altro medikit per noi Sinceramente direi di usare anche questo No, cazzarola No, non c'ho i proiettili Perché? Aiuto Aiuto Me ne so salvato a pelo E me ne so recuperato pure il P90 Per fortuna Aiuto Io allora devo fare una bella cosa Mi devo andare a nascondere dentro una di queste casette Esperando che quello non mi vede E recupera vita Siamo rimasti esclusivamente in 6 Ok, mettiamo i due scudi Per fortuna che me li sono mantenuti Allora, sto P90 è carino Ma non è OP Quindi dobbiamo stare un po' attenti Sta col lancianissile Guarda che maledetto Guarda che mi sta cercando Guardalo, guarda E vabbè Volevi Sì, mo mi ammazzi col lanciafiamme Ma... Ma che scherzi? Scherziamo? Sto col P90 nuovo E tu mi vuoi uccidere col lancianissili? Anzi, col lanciafiamme addirittura Cioè, proprio bufo Perché poi non mi ha proprio colpito E quello è il divertente Cioè, ma via Davanti e non mi ha colpito con colpo Oh, e questo? Aiuto No, ma perché mi si ricarica sempre in quella maniera? Oh, oh C'è altra gente lì che sta col cecchinozzo Che poi non è cecchinozzo No Tifoso No, dai Dalla finestra mi sono fatto fregare Vabbè Quarto in classifica con il P90 Non mi dispiace Questi sembra che stavano affatimmi Invece no Ah, guarda che belle skinne che c'hanno Allora, vai Andiamo a fare un'altra partita Trozza e vediamo come ce la caviamo E vediamo se magari riveliamo il P90 Perché è nuovo È stato aggiornato È stato aggiunto nell'ultimo aggiornamento Quindi Chissà Chissà Molto carina Molto veloce come arma Pochi danni e tanti colpi Bisogna avere una certa precisione Bisogna stare anche a una certa distanza Non troppo elevata Quindi un'arma da vicino Quindi se l'avversario ha gli scudi Già belli alzati È un'arma un pochino troppo pericolosa Giustamente bisogna andare belli bardati Tipo sul P90 Se hai capito Allora Lucky Lake Questa volta non ci voglio andare Lo stesso Voglio provare ad andare a Tinkertown Anche se lì ci sono case più grandi E potrebbero attirare l'attenzione Se no va dalle casette quelle sotto a Tinkertown Ok da qui dovrei arrivarci in volo Scendendo normale senza abbassarmi Quindi dovrei essere sceso molto prima Quello proprio diretto ci è andato Non si sa per quale arcano motivo Però io ci entro diretto Qui mi prendo le casse Belle Bello un po' di vita ci piace Allora vai Stiamo non malissimo con le armi Allontaniamo la gente che si vuole fregare i nostri proiettili Ok posso entrare qua dentro Altra arma Sicuramente ci sarà una bella pulizia poi dopo Allora diamo un po' Questa non mi si apre Ok un'arma da cecchino Che non è malissimo Questa me la voglio tenere però Assolutamente Ok allora facciamo così Va bene Prendiamo i proiettili Vai così Andiamo nell'altra casetta Se non c'è entrato ancora nessuno Così almeno riusciamo Oh cassa dorata zombie Vediamo un po' che esce Allora un'arma Sempre da distanza Però questa mi piace di più Un altro P90 Oh leggendario Oggi è giornata dei P90 Leggendari e speciali Ok quello di prima era epico in verità Però ci accontentiamo Allora vediamo un po' Questi me li mangio subito Due scudini immediatamente Ok abbiamo preso Robina No 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 Mamma mia P90 da vicino Che cosa combina P90 da vicino Che ti crea Mentre ero distratto poi Wow Grazie P90 Ok quindi col P90 Devo combattereci dentro le case Allora Vediamo un po' Arma che non ci interessa Ok Stiamo solo con 6 di scudo Perché me l'ha tolto tutto Il maledetto Qua dentro non c'è niente Quindi c'è già passato qualcuno Allora Qua c'è una cassa libera Che ci prendiamo i colpi Ok Oh Casse zombie Però stiamo al limite dell'area E è un po' rischiauso Ok però abbiamo preso i colpi buoni Allora vai che facciamo Un'intera puntata di P90 Così lo vediamo nuovo Subito subito Alla fine sono identici come arma Quindi non prenderò l'altra leggendaria Perché è veloce Alla stessa maniera Cerca sparare Quindi non mi serve Ok Allora Andiamo a vedere queste casse qua E poi penso che ci sposteremo di zona Allora Questa mi piace Me lo devo assolutamente mangiucchiare uno Ok Così mi aumenta un po' di armor Lo so che è uno spreco Ma In queste situazioni Io ho abbastanza paura Che arriva al primo Del momento E mi rompe le scatole Allora Niente E niente Ok No 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 Eh lo sapevo che perdevo qualche cosetta Vabbè non fa niente No Allora No vai via C'è un altro Ce n'è un altro Là che rompe Ho ritornato alle casette qua sotto E l'aria si è stretta da questo lato Ok Oh Guarda un po' chi c'è qua Guarda un po' chi c'è qua Ah Aiuto Eh mi sa che non ce la faccio Mi sei scaricato nel momento sbagliato Ok Tira tanti colpi Ma si scarica subito Quindi può essere un grosso problema Comunque due partite Già colpi in nove Facciamo l'ultima ragazzi E vediamo un po' se ci ricapita Un altro bel p9 leggendario Non ci dispiacerebbe La 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 Allora Sono un bellissimo insetto E piglio ammartellate tutto Allora Buongiorno Lei chi è? Buongiorno Gli mando un dino Buongiorno Allora ragazzi Come vi sembra questo gioco? Scrivetelo qua sotto nei commenti Voglio vedere tanti i vostri commenti E se volete ancora Che ne porto episodi Perché effettivamente Mi rappresenta molto di più Perché è un punto io E nel stesso momento È del gioco di tendenza Fortnite Quindi Abbiniamo le due cose Se ce la facciamo Allora Lì c'è segnato Scendere lì Ma perché Visto che io non ho detto niente Stavolta vado a Infantry Island A un chilometro di distanza Dalla mappa Quindi proprio giù in fondo E vediamo chi altro viene con me Così magari lo killiamo subito Oppure c'è killa subito E finisce la puntata a secco Così bravo Bam Morto Sarebbe bellissimo Allora vai Siamo lungo il ponte Quindi direi di già scendere Uno è sceso perfettamente identico a me Quindi probabilmente la sua intenzione È la stessa Lui se ne andrà alla casetta De là Io vado alla casetta De qua Ok Così almeno ci abbiamo Le nostre zone Diciamo Delineare Oh cassa zombie Ok Arma ravvicinata Che non è male Ok Altri colpi per quell'arma Allora Vediamo un po' Oh minican E beh Volevi Volevi Oh no mi sta ammazzando Mi sta ammazzando Ma quasi ammazzato Ai 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 Questa non è una buona cosa per niente Allora Vediamo un po' se Trovo una curetta qui Oh ho preso No dai Non ci credo Dai no Ne faccio un'altra Raga No sono morto malissimo E qui c'è stata pure la cura Ci riproviamo Ci riproviamo Che brutta morte che ho fatto In un angoletto col minican Minican è bello da distanza Fa pochissimi danni Basta che lisciate qualche colpo E alla fine Rimanete fermi Ok Vediamo un po' Adesso dove scendiamo Allora Sto scendo proprio qui subito Laghi Island Non mi frega niente Alla casa dopo magari Eh ci sta andando pure questo Va bene Allora L'ingresso è qui Allora Vediamo un po' se riesco a entrare prima di loro E a divertirmi A usciterli un pochino Oh Fucile a pompa da vicino Perché non entri? Dai P90 per noi Epico Bono Guarda Guarda che non entra Aspetta che esco Passate davanti alla finestra Dai Passate davanti alla finestra Su Vado i bravi ragazzotti Oh Altro P90 per noi Eh No No Lui c'ha lo scudo Lui c'ha lo scudo Sta un po' nei guai Un po' tanto nei guai Che scatole a me Che voglio provare No E dai però Oh Aiuto Mamma mia Sciottone col Col nostro bellissimo pompa Il problema è che c'è troppa gente Sono sceso subito insieme agli altri Per divertirmi Però così ci muoio io Uh Dopi eliminazione Ok Allora c'è qualcuno dentro questa casa? Buongiorno Non c'è nessuno Ok Mi posso inserire e sperare Vai via da qua Bravo Mamma mia lo sciottone Sul fagione Oh c'avevi la leggendaria P90 Bella Grazie Molto gentile Eeeh Qualcos'altro ma Ma sigra Gentilissimo Lei è gentilissimo Allora Voglio vedere se adesso troviamo Qualche cosa per curarci Perché siamo messi un po' a schifo Con la vita Più che altro Non con tutto il re Mi scusi lei Eh Mamma mia No dai Che Dai non ci credo Non ci credo Ne faccio un'altra Dai maledetti Ok 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 Riproviamo Che la possiamo Fare Possiamo arrivare Come abbiamo fatto prima Tra i primi 4 Tra i primi 10 Ci riusciamo Però dobbiamo essere Un po' più attenti E un po' meno Aggressive Perché a me mi piace Fa il pvp Il problema è che all'inizio Se lo fai con tanta gente intorno Tu te fai uno contro uno Poi t'arriva quello alle spalle E ti ha rovinato Ok Allora Vorrei andare giù A quelle casette Vediamo un po' Ce la possiamo fare Scendere Ok Stanno venendo altre persone Insieme a noi Ma già hanno capito Che io sto entrando qua Quindi Hanno cambiato direzione Alcuni E questo è un bene per me Allora Altra cassetta Vediamo un po' Ok Arma buona Che piange Vediamo un po' Se entriamo qua Due belle cassette Di queste qui Sperando che esci Roba buona Lo scudo Niente male Allora Sinceramente Io vorrei fare Una cosa del genere E entrare qui Sperando che loro Non hanno trovato Niente di meglio In confronto a me Dentro alle altre casette Ho sparato alla cassa Sprecando colpi Va bene Cominciamo Provo benissimo Direi Ah ma qui non l'hanno prese Ma perché non le prendete Guardi questi si prendono Regà Questi si prendono Ok Allora Andiamo verso il B Ah già la miseria Oh Ok Poi te chiami pure Player Manco il nome Te sei messo Mamma mia Non mi potevo F'ammazzata Player Ho sbaglio Eh che diamine Oh c'è qualcuno Beh Ebbè Allora Ciao Ebbè Lo volevi tu L'hai chiesto tu E io te le do Di santa ragione Allora Facciamo così Prendiamoci tutti i colpi Se appare un'arma buona La prendiamo Vai così 610 No 614 colpi Buoni Altra di questa Per ricaricare Quello lì Che ci ha tolto Il maledetto No Una casetta Una casona E già c'è entrato qualcuno Quindi penso non c'è sia niente Almeno non hanno lasciato la roba Come fanno le loro Solito Che lasciano almeno una Guardalo 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 schifoso Aia Ma ha tirato Una fracca di colpi E no 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 Che diamine Per un pelo Vabbè Vabbè Dai Abbiamo provato il P90 Un paio di volte Abbiamo fatto un po' di partite Giustamente mi sono fatto fregare Abbastanza schifo Perché sono abbastanza NAB Abbastanza aggressivo Ma comunque Ce la stiamo cavando Abbastanza bene Possiamo dire Va bene ragazzi Arriviamo a 300 like Condividere i video Iscrivervi al canale Se i nuovi Lasciate l'hashtag fortnite Qua sotto nei commenti Vi riceverò il cuoricino E noi ci vediamo In un prossimo episodio E noi ci vediamo